La rappresentazione della montagna come soggetto autonomo è un tema che in arte si sviluppa relativamente tardi rispetto ad altri come i ritratti o le nature morte. Questo perché per lungo tempo resiste l'idea che l'unica natura meritevole di essere raffigurata fosse quella modellata dall'uomo come i giardini o le campagne coltivate chiamata dagli antichi romani locus amenus vale a dire luogo piacevole in contrapposizione al locus horridus cioè selvaggio indicando così un luogo lontano misterioso e spesso anche pericoloso. Ciò non vuol dire che non si rappresentasse. Una delle più antiche immagini di montagna è un affresco staccato da Pompei che rappresenta il monte più pericoloso di tutti il Vesuvio. Per lungo tempo tuttavia la montagna ha rappresentato un luogo più simbolico che reale legandosi spesso a episodi biblici come il monte Ararat dove si sarebbe arenata l'arca di Noè o il monte Sinai identificato con il monte Oreb dove Mosè avrebbe ricevuto le tavole della legge. Con l'affermazione della religione cristiana la montagna assume un nuovo ruolo comparendo come sfondo in alcune rappresentazioni. Qui per esempio potete vedere il mosaico rappresentante il Buon Pastore che con le sue pecore si trova in un paesaggio montano visibile nel mausoleo di Galla Placidia Ravenna risalente al V secolo d.C. Nel corso del Medioevo le raffigurazioni di rocce spigolose geometriche servono generalmente agli artisti come richiamo un paesaggio astratto e allegorico non rappresentante realtà riconoscibili anzi spesso posta contrasto con i soggetti raffigurati. Vale però ricordare alcune eccezioni come nella chiesa di San Martino Azzillis in Svizzera dove si conserva un soffitto composto da 153 pannelli dipinti eseguito intorno al 1160. Tra questi pannelli venne uno che raffigura la tentazione di Cristo nel quale il pittore ha inserito sullo sfondo il profilo di una montagna che gli abitanti di Azzillis e della valle del Shams conoscono bene non essendo altro che la strada a forma incavata del Wergenstein. O ancora il riquadro con il miracolo dell'acqua o della sete opera di Giotto nella Basilica di San Francesco d'Assisi dove il santo è rappresentato nell'atto di pregare davanti a uno sperone di roccia in un paesaggio riconoscibile come tipico Umbro. Nella pesca di San Pietro di Conrad Witz del 1444 sono invece ben riconoscibili il lago di Ginevra e la montagna retrostante. Delle cime dei monti che si scoprono all'occhio l'una più alta dell'altra che le proporzioni delle distanze non sono con le proporzioni dei colori. Così invece Leonardo da Vinci indirizzava nel suo trattato di pittura i suoi allievi alla rappresentazione della montagna conseguendo quindi anche il primato insieme ai suoi numerosi altri nel fornire indicazioni pratiche a riguardo. Ancora nel Seicento la montagna appare nei dipinti come luogo di ombra o di luce a seconda del messaggio che il pittore voleva comunicare senza però rappresentare paesaggi reali come si vede bene in questo dipinto di Rembrandt. Sarà però con la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII che la prospettiva verrà ribaltata e con l'affermazione della società dei lumi e il primato della scienza si accetta di sfidare il selvaggio scoprendolo in realtà affascinante tanto da definirlo Lo spettacolo della natura titolo di un'opera pubblicata per la prima volta nel 1732 dal naturalista Plouche. William Pars e Caspar Wolff quasi contemporaneamente realizzano immagini di montagne con occhio attento e talmente preciso che le loro raffigurazioni verranno utilizzate tra gli altri in riproduzione in rame da Abraham Wagner esperto di geologia per accompagnare i suoi testi. Con la conquista del Monte Bianco nel 1786 da parte di Balmain e Pacquart e soprattutto con la sua ascensione da parte di Desaussures l'anno successivo per calcolarne l'altezza questa montagna diventa il soggetto principale dell'icronografia alpina. La montagna così rivelata diventa soggetto autonomo della rappresentazione da parte di tanti artisti che spesso si avventurano alla sua esplorazione specie nel corso dell'Ottocento come per esempio William Turner che amò particolarmente le montagne riproducendole spesso e soggiornando via lungo. Gli impressionisti attratti dai fenomeni naturali e per prima rappresentarli dal vero furono molto affascinati anche dalle montagne come ci dimostrano Monet e Cézanne in questi due dipinti. Tra i pittori italiani certamente da ricordare Giovanni Segantini che della pittura, specie della montagna e della natura, aveva fatto non solo una professione ma una vera e propria ragione di vita. Ormai la strada per fare della montagna soggetto a sé stante è aperta e numerosi saranno gli artisti che la rappresenteranno con varie tecniche e stili. Chiudiamo questa carrellata con il monte con il quale abbiamo iniziato, il Vesuvio, ma rappresentato da Andy Warhol nel suo originalissimo stile pop del 1985.